Bastano due gol nel primo tempo a decidere la sfida tra Vibonese, Biceglie e secondo, risultato utile consecutivo per il nero-azzurro stellati che allo stadio Razza ritrovano in panchina il tecnico Bucaro dopo la maxi squalifica rimediata a Catania. Esordio dal primo minuto invece per l'ultimo arrivato Romizzi nella linea del centrocampo con Cittadino e Mansur, panchina invece per l'altro ne ho arrivato il giovane portiere Loliva, in porta c'è Russo, la Vibonese di Galfano invece tra le mura amiche sceglie un 3-4-3 piuttosto offensivo con plescia punta centrale affiancato da Mancino e Berardi, avvio vivace con il Biceglie che sfiora subito il vantaggio grazie al cross di Sartore perfetto per l'inzuccata di Mansur ma la palla è alta davvero di poco. Ma al primo affondo la Vibonese passa all'undicesimo, Berardi buca la difesa ospite da destra e serve in aria plescia che di tacco in bello stile sigla la rete del vantaggio di casa. Non si disunisce però la squadra di Bucaro che dopo 5 minuti trova immediatamente il pari e Musso questa volta a decentrarsi sulla destra e a crossare un campanile per la corrente Mansur che batte di testa Marson. Dopo i due gol iniziali la gara si anestetizza per una ventina di minuti nel mentre solo schermaglie con Cittadino prima e plescia dopo ma i padroni di casa sfiorano nel finale di prima frazione il vantaggio. Tumbarello lancio millimetrico per Berardi che in velocità arriva tu per tu con Russo abile ad ipnotizzare l'attaccante sanmarinese respingendogli il tiro. Ritmi ancora più bassi della prima frazione di gioco in avvio di ripresa e i padroni di casa pur in una gara equilibrata sono più intraprendenti. Bel tiro di plescia all'alba del quarto d'ora ma la sfera non inquadra lo specchio. Berardi ci prova ancora con una giocata solitaria a destra ma il suo sinistro da fuori aria è di un soffio sul fondo. Ciotti al volo nel cuore dell'area di rigore ma il tiro è deviato e respinto ancora dall'estremo difensore ospite. Momento migliore per i padroni di casa ma a sfiorare il vantaggio sono proprio gli ospiti. Mansur avvia l'azione in ripartenza verso Rocco il cui tiro strozzato all'interno dell'area di rigore trova nuovamente il piede del centrocampista biscelliese. Traiettoria velenosa che si stampa sulla traversa. Rocco ancora lui riceve palla da cittadino e calcia di sinistro ma la palla termina al lato di poco. In pieno recupero è lo stesso cittadino direttamente su calcio di punizione a scaldare i guantoni di Marson. Bravo nella respinta. Non c'è però più tempo. Finisce uno a uno a razza con segnali davvero incoraggianti per il team di Bucaro che domenica prossima è atteso al Ventura dal derbissimo contro il Bari.